Ragazzi, ragazzi, siamo arrivati a 7.000, cazzo! E vai! Ma vieni! Ma vai! Che il 7 porta bene! E vai, raga! Uh, 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 uh! Fenomenali! Fenomenali! Ora, dato che purtroppo YouTube non mi fa vedere il 7.000 iscritto, sto imbecille, se qualcuno conosce un modo strategico per, appunto, scoprirlo, ditemelo, scrivetemelo, eh? Così facciamo un mega party! A parte questo, volevo solamente dirvi grazie, 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 scusate ma c'era un vecchio che sembrava che ogni volta che accenno un video tutti così, ma fatevi cacchi vostri, andatevi a vaccinare!